Fusion 360 è certamente il programma più innovativo dell'otto. Non brilla particolarmente negli ambienti di lavoro, ma è l'unico basato sul cloud con una struttura che ricorda quella dei social network moderni. Strizza infatti l'occhio ai designer che lavorano in gruppo a distanza. Certamente Autodesk sta puntando molto su questo software ed è ragionevole pensare che in una decina d'anni possono andare a sostituire Inventor con magari versioni del software dal pricing diverso. Il rapporto qualità-prezzo per la versione base è davvero al massimo livello. Al prezzo infatti di 300 euro all'anno, qualunque azienda può avere un discreto pacchetto completo di CAD, CAM, FEM e con una gestione di modellazione freeform davvero molto buona. La versione professional, con strumenti CAM avanzati, è invece decisamente fuori mercato. Per 1500 euro all'anno si può avere una soluzione alternativa molto più stabile e completa. La forza del programma risiede nel servizio cloud, che consente di eseguire operazioni molto onerose per il calcolatore locale sui potenti server Autodesk. Inoltre, Fusion è l'unico ad essere aggiornato con frequenza quasi mensile. Purtroppo però, gli aggiornamenti sono quasi sempre mirati ad aggiungere nuove features, trascurando la risoluzione dei problemi che ormai da anni affliggono il programma. Il principale difetto di Fusion è legato alla stabilità del programma stesso, che è davvero insufficiente. Chiunque ambisca ad usare Fusion 360 a livello professionale, con progetti seri deve mettere in conto di salvare ogni due minuti il lavoro, perché c'è il serio rischio di perdere i progressi a causa di un crash spontaneo. O ancora peggio, come mi è più volte capitato, di sperimentare la corruzione del file e di perdere diverse revisioni precedenti, perdendo di conseguenza decine di ore di lavoro. Da un programma cloud-oriented che salva sui server il progetto, non mi sarei mai aspettato di perdere le versioni precedenti del file a causa di un crash in locale. In poche parole, Fusion 360 fa sua una filosofia diametralmente opposta a quella di Rhino. Punta infatti a fare tantissime cose, ma le tratte in maniera spesso poco accurata e poco efficace. Il nostro amico Cornuto, invece, si concentra su poche cose, ma le gestisce con qualità ai massimi livelli. Consiglio Fusion 360 a chi intende avvicinarsi al mondo CAD per la prima volta. Inoltre, è perfetto per studenti, fablab o piccole aziende. L'utenza più specializzata lo deve però considerare come un bel giocattolone, che si è costretti a mettere da parte quando bisogna realizzare qualcosa di serio. Tra i software considerati, Fusion 360 risulta avere il miglior ambiente di render, la migliore assistenza, i minori tempi di import e di export, i migliori aggiornamenti e il miglior rapporto qualità-prezzo, limitato alla versione base. Dopo aver valutato i test negli scorsi video, Fusion 360 arriva a quarto, con circa 89.000 punti. Rhino è un programma completamente diverso dagli altri presi in esame, è l'unico a non essere parametrico e non è pensato per ingegnerizzare i prodotti da portare in produzione. È rivolto principalmente ad architetti e designer, che in poco tempo devono dare vita alle loro creazioni e che hanno bisogno di una maggiore precisione rispetto ai modellatori mesh. McNeil, con Rhino, ha confezionato un pacchetto robusto, familiare già dal primo avvio a tutti gli utenti abituati a software CAD tradizionali. L'incredibile stabilità e schizzi 3D da primo della classe lo rendono il programma di riferimento nella modellazione per superfici. Veramente notevoli i comandi di estrazione di curve partendo da superfici, che al momento sono assolutamente fuori dalla portata di tutti i competitors. La leggerezza del programma lo rende adatto anche a macchine non di ultimissima generazione, garantendo comunque avvii fulminei e prestazioni notevoli. Altra nota positiva è la presenza di numerosi plug-in di terze parti che completano il pacchetto. Tra i più notevoli troviamo le T-Splines, Grasshopper e V-Ray. Questa modularità permette di investire i soldi solo negli strumenti che ci interessano davvero, gravando meno sul portafogli, con un prezzo che rimane comunque molto contenuto rispetto ad altri software considerati. Ovviamente Rhino non è esente da difetti, come ad esempio i problemi con i driver grafici che non è in grado di spremere fino all'ultimo pixel, oppure la gestione della messa in tavola di vecchia generazione, con un grande sforzo da parte dell'utente nel definire le viste e le sezioni. Tra i software considerati, Rhino risulta avere il miglior ambiente mesh, relativo all'otto ovviamente, il miglior ambiente per superfici, migliori schizzi 3D, migliori insensibilità all'errore, è il più stabile, è il meno caro, ed è il più veloce all'avvio. Rhino arriva quindi in terza posizione, con circa 91.000 punti. Inventor non ha particolarmente brillato in nessuno di questi test, riesce comunque ad arrivare alto in classifica, grazie ad un flusso di punti stabile durante le prove che abbiamo condotto. Non riesce ad essere quasi mai migliore della concorrenza, ma non finisce neanche quasi mai in fondo alla classifica. Quello che fa di Inventor Inventor, è l'ottimo equilibrio tra funzionalità, stabilità e completezza, che su certi fronti ritengo porti Inventor a poter competere ad armi pari con software di livello superiore. In particolare, personalmente sono molto attaccato ad Inventor e adoro la sua flessibilità nella gestione delle features. Inoltre, Inventor apprezza molto la gestione delle parti multi-body, cosa che ad esempio Creo tratta in maniera non sempre adeguata. Molto apprezzabili sono i tool specifici dedicati agli ingegneri, per la creazione ad esempio di ruote dentate o di altri particolari meccanici. Un plauso quindi ad Autodesk per aver confezionato un software che con gli anni, di versione in versione, riesce a introdurre sempre più strumenti, che non sono forse fondamentali, ma sono molto comodi e velocizzano il workflow. L'ambiente di modellazione freeform di Inventor ci regala invece una piccola delusione. Seppur non pessimo, risulta infatti molto inferiore rispetto a quello di Fusion 360, che è sempre Autodesk e che costa molto meno. Forse però, gli sviluppatori stanno aspettando di correggere i bug prima di introdurre gli stessi strumenti di Fusion nella loro punta di diamante del mondo CAD. Peccato anche per l'assenza di una soluzione PLM integrata convincente, non ci resta quindi che aspettare le prossime release. Tra i software considerati, Inventor risulta avere il miglior ambiente degli assiemi e la migliore assistenza. Valutati i test dei video precedenti, Inventor arriva in seconda posizione con quasi 96.000 punti. Creo risulta certamente il netto vincitore di questa competizione. Risulta infatti il numero 1 in molti test che per me sono fondamentali. PTC, con un unico programma, dà una suite davvero molto completa per l'ingegnerizzazione di qualunque prodotto. Creo risulta in generale non flessibilissimo perché è forse legato ad una vecchia concezione di CAD dove l'utente non può lasciare nulla al caso. Il tempo extra speso nella definizione dei vincoli e delle feature che è imposta da PTC verrà poi però ripagato con una stabilità del modello da primo della classe. Sicuramente è il software meno facile da utilizzare nel lotto considerato ma una volta fatte nostre le regole base per una buona modellazione avremo migliorato anche la nostra esperienza con altri programmi CAD. Il passaggio da Creo 3.0 ci ha sorpreso piacevolmente. In effetti, con la versione 4.0 sono state introdotte numerose migliorie. Probabilmente non sarà la più utile ma il supporto per la realtà aumentata è di certo la feature più stuzzicante. I diretti concorrenti di Creo sono Siemens NX ed Assault System KTA. Questi tre software sono tra le altre cose anche i leader nel settore automotive. Se siete studenti vi conviene scaricare Creo e prenderci familiarità. In un possibile colloquio di lavoro, se per padroneggiare Creo, piuttosto che KTA o NX sarà la miglior carta di presentazione possibile. Tra i software che abbiamo analizzato, Creo ha il miglior modellatore freeform, il miglior ambiente di messa in tavola, la miglior compatibilità con file proprietari esterni, la miglior fluidità di visualizzazione, è la suite più completa ed è in grado di realizzare i progetti più complessi. Per questo motivo, Creo arriva in prima posizione con oltre 100.000 punti. Quella che vedete in sovrimpressione in questo momento è la rappresentazione grafica dei risultati. Io spero che il video vi sia piaciuto e che vi abbia convinto il metodo di valutazione. Da parte mia vi posso assicurare che ho cercato di essere il più imparziale oggettivo possibile. Vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video.